Fin dall'inizio della storia dell'uomo, lo sviluppo di quel fenomeno culturale che noi chiamiamo musica, sarà strettamente legato allo sviluppo di un altro fenomeno culturale, legato al soprannaturale, che sfocerà nell'evoluzione delle varie religioni presenti sul nostro pianeta. Dedicheremo questa puntata a cercare di capire come e perché questo legame sia sempre stato così forte. Nella precedente puntata abbiamo visto come la scoperta della risonanza e delle cavità risonanti fu determinante nello sviluppo sociale dell'uomo, grazie alla capacità comunicativa che c'è dietro questo fenomeno fisico. Gli strumenti che ebbero sicuramente il maggior impatto con lo sviluppo di alcune forme di comunicazione sono stati prevalentemente quelli a percussione. Tamtam, tamburi, cembali, diventano fondamentali come strumenti di comunicazione e aggregazione del gruppo. Ma determinante fu anche capire che il proprio corpo emetteva suoni comunicativi grazie alla risonanza delle sue cavità. La cavità laringea, per prima, permetteva di comunicare attraverso un suono semplicemente chiamato «parola». La risonanza consentì all'uomo di capire quanto determinante fosse la comunicazione per l'evoluzione della sua conoscenza. L'emissione di suoni di cavità risonanti o l'emissione delle parole dalla cavità laringea viene equiparata nella stessa sacralità che abbiamo individuato nel precedente filmato, identificando in ciascuna di esse il corrispondente demone. Grazie alla comunicazione, grazie al demone, si va creando e si va accrescendo il concetto stesso del mondo. Un padre per primo, insegnando al proprio piccolo come il mondo funziona, crea, giorno dopo giorno una nuova realtà nella mente del figlio, la quale cresce con il bagaglio che gli è stato da lui trasmesso, ma che continuerà ad elaborare per tutta la vita sulla base delle esperienze che andrà via via vivendo. La visione del mondo da parte del figlio sarà dunque simile a quella del padre, a sua immagine e somiglianza, ma prenderà una strada diversa e personale. Il padre, per lui, sarà per sempre lo «spirito» che gli ha permesso di conoscere il mondo. Prendere coscienza, da parte dell'uomo, di essere capaci di accumulare informazioni lo faceva sentire unico nel regno animale, e probabilmente fu questo che lo portò a fare della conoscenza, una religione, e del suo mezzo, un suono comunicativo o la parola stessa, il suo dio. Quello che scopriremo in questo filmato sarà quanto sia ricorrente questa ipotesi in quasi tutte le mitologie della creazione, dalle più antiche alle più recenti, con una corrispondenza che avrà del sorprendente. Ora è arrivato il momento di vedere quanto sia vera questa affermazione. C'è un legame tra l'emissione di suoni delle cavità risonanti ed alcuni aspetti sociali della comunicazione interpersonale e collettiva. Confrontando questi fenomeni ancora presenti in molte culture, abbiamo visto come ancora oggi l'emissione di suoni strutturati da parte di queste cavità venga attribuito a demoni o divinità presenti negli strumenti stessi. Anzi, spesso viene considerato che il demone era già presente nell'albero con il cui legno viene costruita la cassa armonica dello strumento, o nell'animale da cui viene ricavata la pelle che verrà tirata sul tamburo. Il suono dello strumento diviene la voce del demone che finalmente può esprimere appieno la sua capacità comunicativa. Occorre poi considerare due aspetti probabilmente già molto chiari nelle società primitive. Il primo è che cantare e suonare tutti assieme è determinante per l'aggregazione del gruppo e per la sua sintalità. Suonare e cantare assieme diviene una forma di grooming sonoro grazie al quale il gruppo si riconosce ed allinea i propri comportamenti. Il secondo è che dovette essere chiaro fin dall'inizio come ogni forma di comunicazione aveva ambiti di imperfezione tali, da rischiare di vanificare il contenuto della comunicazione stessa. Comunicare non è facile oggi. Sicuramente era molto più difficile in epoche il cui il linguaggio si andava formando. Comunicare male o distorcere il significato di una comunicazione, rende inutile ogni tentativo di unificazione dei comportamenti con conseguenze che potevano essere anche tragiche. Fu necessario perciò inventare strategie sociali che limitassero al massimo i danni di tale imperfezione. Probabilmente attribuire a spiriti e demoni la capacità o meno di comunicare fu una di queste strategie. Probabilmente fu per questo che fin dall'inizio, questi demoni, vennero classificati come buoni o cattivi. Gli spiriti buoni sono quelli che attivano la giusta comunicazione, il giusto rapporto interpersonale e partecipano positivamente allo sviluppo del gruppo, mentre quelli cattivi lavorano contro ogni forma di sviluppo sociale speculando sulla imperfezione del linguaggio. Ci sono due termini greci che individuavano con precisione la parte positiva e quella negativa della comunicazione. Dialogo. La prima, diavolo, la seconda. L'etimologia delle due parole deriva dalla combinazione di due termini che le rende tra loro discordanti. La prima, dialogos, si compone dei termini, dia, e, logos, ossia, attraverso la parola. Mentre la seconda si compone dei termini, dia, e, bolos, ossia, attraverso la calunnia. Il dialogo è lo spirito che unisce, il diavolo è quello che divide. Le due parole descrivono appieno i due aspetti della comunicazione, e ci danno il significato di due termini che useremo frequentemente nel seguito delle nostre puntate. Nella parte positiva della comunicazione i greci usavano il termine logos, che non vuol dire solo parola, ma tutto quello che c'è dietro di essa, a cominciare dal concetto, che la parola intende comunicare. Il logos non sempre viene rappresentato da un suono o da una parola emessa dalla laringe, ma può anche essere un concetto semplicemente pensato, una idea, una nozione. Ma sempre i greci, che avevano, già allora, molto chiaro come andasse il mondo, vedevano nel lato oscuro della comunicazione la nascita dell'azione tragica, fondamento delle loro rappresentazioni teatrali. Principio che sarà fondamentale anche nello sviluppo della tragedia in teatro, e nel melodramma in ambito musicale, fino ai giorni d'oggi. Un esempio? Otello, di William Shakespeare. La tragedia nasce proprio dall'uso della calunnia da parte di Iago, che, ingannando Otello, lo porterà al tragico ed inutile assassino della innocente Desdemona. Quello che a noi interessa e che intendiamo sviluppare in questa puntata è proprio il rapporto che si andò creando dietro le primitive forme di comunicazione interpersonale, o nell'ambito del gruppo, cioè il rapporto con il mondo trascendente. La sacralità della comunicazione farà in modo che la stessa creazione del mondo, avverrà attraverso un processo comunicativo. Tutte le mitologie della creazione infatti, individuano la nascita del mondo dalla concretizzazione di un suono comunicativo primordiale, da alcuni antropologi chiamato Ursaund. Il mondo diviene tale perché, nominato, dal creatore. Un suono primordiale è quello che, una volta emesso, diviene materia e concretizza il mondo. Il Logos sarà al centro delle mitologie della creazione di tutto il pianeta, come vedremo tra poco. L'immagine allegorica riferita alla realtà è chiara. Analizziamo brevemente un processo comunicativo e ne capiremo il perché. La percezione della realtà, cioè del mondo che ci circonda, sia nelle sue forme materiali che nei suoi aspetti sociali e fisici si va formando in ognuno di noi, in modo determinante, attraverso gli stimoli e le esperienze che derivano in gran parte dal rapporto interpersonale e da tutto ciò che assimiliamo dalle varie forme di comunicazione. Grazie all'esperienza elaboriamo gli stimoli e le informazioni e ci facciamo un nostro concetto della realtà assolutamente legato all'ambiente sociale in cui viviamo. Un esempio banale. Nessuno nasce con una propria idea della «libertà». Il concetto che ciascuno di noi ha di essa dipende da molti fattori che si accumulano con l'esperienza. Anche in società particolarmente omogenee dal punto vista sociale e culturale, ogni individuo avrà elaborato una propria idea di «libertà». Anche se sarà allineata col concetto che mediamente quella società ha di essa. La comunicazione modifica, sia come stimolo esterno che come esperienza, la nostra percezione della realtà, l'aspetto della quale diventa individuale. La percezione del mondo che ci circonda diventa quindi il frutto della elaborazione dell'enorme quantità di stimoli che ogni momento raggiungono i nostri sensi, buona parte dei quali derivano dai nostri rapporti interpersonali. Se è chiaro un concetto del genere, è facile anche capire perché quando una persona comunica, si dice che «crea». Pensate all'uso di questo verbo nell'ambito dell'arte. Comunicando si modifica la realtà in cui vive l'interlocutore, si crea in lui un altro pezzetto di quel mondo che già l'accumulazione degli stimoli è andata via via, creando, a cominciare dal primo giorno in cui è venuto al mondo. Abbiamo accennato a quanto sia determinante il ruolo del padre nei confronti di un figlio, di quanto cioè, insegnando al proprio piccolo come funziona il mondo, crea, giorno dopo giorno una realtà nella sua mente, e per questo la sua visione del mondo sarà simile a quella del padre, a sua immagine e somiglianza. Per un maestro l'atto creativo consiste nella sua stessa funzione di insegnante, come per tutte quelle figure che, nell'ambito di una cultura, hanno ruoli simili. Ipotizziamo qui dunque che alle origini, rendersi conto di essere capaci di accrescere la conoscenza grazie all'uso della parola, avrebbe potuto fare della conoscenza stessa una religione, e del suo mezzo, la parola, il suo Dio. La realtà viene creata attraverso la comunicazione, e siccome l'elemento creativo in assoluto più importante è la parola, la parola o un suono comunicativo, è l'elemento che crea il mondo. Facciamo un viaggio nel tempo e nella storia seguendo le mitologie della creazione intorno al nostro pianeta, il parallelismo sarà sorprendente. Prenderemo ad esempio tre mitologie documentate da altrettante raccolte di scritti che sono le loro corrispondenti Bibbie. Sono i Veda dell'India, il Popul Vudei Maya e la nostra stessa Bibbia. La più antica è la mitologia vedica. Intorno al XX secolo a.C., il Popolo degli Ari invase la parte settentrionale dell'India e portò con sé la religione vedica, dalla quale ebbe origine il successivo induismo dell'attuale India. Che i Veda ipotizzino che il mondo nasce e si crea nella nostra mente da un processo comunicativo, lo si evince già dal suo titolo. Veda, infatti, nell'antico sanscrito, significa, conoscenza. L'essenza del mito della creazione nei Veda prevede che il mondo sia nato dalla concretizzazione di un suono comunicativo primordiale, riconosciuto nel mantra Aum che rappresenta il mantra dei mantra. I mantra sono quasi sempre dei monosillabi senza un vero significato etimologico ma con un grande contenuto simbolico. Letteralmente il mantra è un «veicolo o strumento del pensiero, del pensare, della comunicazione». Il mantra Aum, ha origini molto antiche e se ne possono trovare tracce già in un inno del Tardo Ragveda. Comunque le fonti più autorevoli per l'uso dell'Aum sono le Upani Sadvediche del IX secolo a.C. Ma vediamo come il Veda prevede sia stato creato il mondo. Il primo suono, da alcuni antropologi chiamato Ursaund, è un canto di lode che, in mezzo alle tenebre, fa nascere un mondo acustico e lo incoraggia a crescere. Poi dal buio nasce l'alba, poiché una parte dei ritmi sonori si trasforma in luce inizialmente sonora. Da questa luce si liberano materie ancora sottilissime, diafane, flessibili, e i primi elementi di un linguaggio articolato. Il linguaggio articolato nasce dunque prima di ogni essere vivente e soprattutto prima dell'uomo. Nella terza fase, equivalente al giorno, i suoni si consolidano nella materia compatta. Il confronto con il processo conoscitivo è percettibile. Dal buio dell'ignoranza si arriva alla piena illuminazione della conoscenza per gradi, attraverso momenti di penombre sempre più chiare, attraverso l'apprendimento. Nella complessa mitologia vedica, c'è anche la figura di un personaggio chiamato Diaus Pita che diverrà fondamentale nello sviluppo delle mitologie mediterranee. Etimologicamente parlando Diaus Pita, nell'antica lingua sanscrita, vuol dire, padre splendente, padre che illumina. Perché è importante questo personaggio, lo si capisce già pronunciando il suo nome, Diaus Pita. Le religioni mediterranee sono tutte di derivazione indo-europee, e le principali divinità di quelle religioni derivano dal Veda. Diaus Pita darà origine a Zeus Peter nell'antica Grecia, successivamente darà il nome a Jupiter nell'antica Roma, ma sarà anche l'origine del termine, Dio, ossia padre, che nella cultura biblica verrà chiamato più correntemente, Dio padre. Facciamo ora un lungo viaggio ed andiamo nell'America centrale, nella terra dei Maya. La mitologia Maya della genia dei Quiche è riportata in un testo sacro scritto nella loro complessa forma di scrittura. Questo libro si intitola, Popul V, che vuol dire, libro della comunità. Grazie alla loro pittoresca forma di scrittura, i Maya produssero migliaia di codici miniati scritti ed illustrati su pergamena. Oggi ne rimangono ben pochi, circa 400. Con l'intento di perpetrare un vero genocidio, i conquistatori spagnoli distrussero e massacrarono intere popolazioni al fine di cancellare ogni traccia della loro cultura. Vennero mandate alle fiamme migliaia di preziosissimi codici che avrebbero tramandato a noi la loro storia e la loro civiltà. Uno dei codici che andarono distrutti è proprio il Popol V. Ne conosciamo in parte il contenuto perché molti sopravvissuti al massacro, intorno al 1700 poterono raccogliere diversa documentazione del testo e la trascrissero in latino, unica lingua permessa. Grazie a questo grande gesto d'amore per la propria cultura, quella che viene considerata la Bibbia dei Maya ha potuto arrivare in parte fino ai giorni nostri. Leggiamo i passi salienti di questo mito. Questa è la narrazione di come tutto stava sosteso, tutto in calma, in silenzio, tutto immobile, tacito, e vuota era la distesa del cielo. Questo è il primo racconto, il primo discorso. Non vera ancora un uomo, né un solo animale, pietre, caverne, dirupi, erbe, boschi, solo il cielo esisteva. Non appariva la faccia della terra. Vi erano solo il mare in calma ed il cielo in tutta la sua estensione. Soltanto il creatore c'era, il formatore Gukumaz ed il sovrano Tepeu. Allora vennero insieme Tepeu e Gukumaz. Allora si consultarono sulla vita e sulla luce, come si doveva fare perché spuntasse l'alba e si facesse giorno. Così dissero, si faccia così, si riempia il vuoto, si ritiri quest'acqua e sbombri lo spazio, sorga la terra e si consolidi. Così dissero, si faccia chiaro, alveggi nel cielo e sulla terra. Non vi sarà gloria né grandezza nella nostra creazione e formazione finché non esisterà la creatura umana, l'uomo formato. Quindi la terra avvenne da loro creata. Fu così in verità che avvenne la creazione della terra. Così dissero. Terra, e in un attimo la terra fu fatta. E così Gukumaz si riempì di gioia, dicendo. Buona è stata la tua venuta, cuore del cielo. Dunque il mondo si va creando grazie all'uso della parola. Nominando le cose che devono essere create, le cose si concretizzano. Guardate questa immagine Maya, si vedono Kukumaz, a sinistra, e Tepeu, il sovrano, che stanno creando il mondo parlando tra di loro. Osservate bene quella cosa, che sporge dalla bocca di Tepeu. È la concretizzazione materiale di quello che sta pronunciando. Veramente sorprendente. Questo dunque è un esempio di come le mitologie vedono in un atto comunicativo, nell'uso della parola, il modo con il quale il mondo è stato creato. Sicuramente avrete già individuato alcuni paralleli con la mitologia biblica, ma ad essa dedicheremo la parte finale di questo viaggio perché la Bibbia si arricchisce di un ulteriore elemento che ci sorprenderà. Infine veniamo alla nostra Bibbia. Si legge nella Bibbia che dal «Logos», tradotto in «Verbo», nel nostro italiano, viene creato l'universo. È scritto infatti, egli dice, le varie cose che sta creando, e queste si materializzano. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forme deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu, Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse, sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che sono sopra il firmamento. E così avvenne, Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne, Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. Più esplicativo è il Vangelo secondo San Giovanni dove è scritto, all'inizio era il verbo, ed il verbo era Dio. Dove il termine verbo viene tradotto proprio dalla parola greca logos presente nel testo originale in greco. Tenebre e luce sono i simboli dell'ignoranza e della conoscenza, come già abbiamo visto nella mitologia Veda. La conoscenza dunque diviene la ragione dell'esistenza della vita e il suo motore è l'accumulo di informazioni determinato dall'ogni forma di comunicazione. La realtà, è la concretizzazione di un'idea che ciascuno di noi si fa individualmente dell'ambiente in cui vive come risultante di una serie infinita di stimoli comunicativi. Il suono o parola primordiale rappresenta l'archetipo del mezzo col quale si porta al mondo un'idea, un concetto, un oggetto. È il mezzo con il quale essi si materializzano. La creazione è la materializzazione di una intenzione attraverso un procedimento, parlato o altro che sia, che è un processo puramente comunicativo. Come vi dicevo, la Bibbia ci arricchisce di un nuovo concetto che stabilisce con precisione il rapporto tra Dio Padre e l'uomo. L'uomo infatti viene creato il quinto giorno con queste modalità. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Cioè, al contrario della credenza popolare sulla creazione dell'uomo, esso non venne creato nel fango, ma puro spirito e, soprattutto, a sua immagine e somiglianza, ossia puro logos, capace di creare attraverso la comunicazione. Capace, come fa un padre nei confronti del figlio, di creare attraverso l'uso della parola nuove realtà del mondo e nuova conoscenza che così andrà crescendo nel novero dell'intera storia dell'umanità. Solo dopo il settimo giorno, ossia a creazione completata, darà all'uomo un corpo, ed esclusivamente per questioni pratiche. Nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata. Perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra all'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. La principale implicazione del mito della creazione lo abbiamo visto nella precedente puntata. Gli stessi strumenti musicali, intesi come mezzi di comunicazione, divengono strumenti con cui viene perpetrato il rito della creazione. Alla complessa articolazione dei testi sacri che abbiamo visto, potremmo affiancare tradizioni orali come quella Bantu africani. Sentite come vedono, con una ingenuità infantile da favola, il mito della creazione. In principio non c'era nulla. Né luce, né oscurità. Nulla, a parte la noia. E Gembe, il creatore dei Bantu, si annoiava a morte. Un giorno domandò all'immaginazione, cosa posso fare? Costruisciti una sanza, gli rispose quella, vedrai che appena comincerai a suonarla la noia se ne andrà. Allora Gembe si fabbricò una sanza, ne pizzicò una lamella. Si udì la prima nota, dalla quale uscì il sole. Un altro suono ed ecco la luna, un altro ancora ed ecco l'uomo, presto seguito dalla donna e dai bambini, tanti bambini, neri, bianchi, gialli, rossi, di tutti i colori, che rapidamente popolarono la terra. È così che tutti gli uomini sono nati dalla sanza. La sanza protagonista di questo mito Bantu è uno strumento molto diffuso in Africa. Presso molte tribù la sanza è un oggetto sacro. La sua cassa simboleggia la madre terra, nella quale riposano gli antenati, dei sassolini, mentre le note rappresentano gli esseri viventi, uomini compresi. Perciò la musica della sanza non è un semplice susseguirsi di note, ma il ripetersi eternamente nuovo della creazione. La sua cassa è una cassa è una cassa è una cassa. La sua cassa è una cassa. La sua cassa è una cassa. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti